Applausi, applausi, applausi per Emma Dante e il suo Via Castellana Bandiera, primo film italiano in proiezione a Venezia, dieci minuti di applausi dei giornalisti. C'era un tempo in cui Emma Dante, la regista della Carmen, che ha inaugurato la prima della Scala nel 2009, era cittadina nissena, agli inizi e neanche poi tanto della sua carriera, a diretto per sette anni il Rosso Festival, quando tutti dicevano che era disdicevole, che parola così lontana, così amena e così vicina al mondo di Jane Austen, portare in scena uomini e donne nudi, come se l'arc non fosse capace di trascendere il corpo, quando politici piccolo borghesi tuonavano e gridavano allo scandalo per aver portato in questa città un teatro di nicchia che dicevano fare soltanto 20 spettatori a serata. In quel tempo lì c'era chi nella signora Dante credeva e in ciò che il suo mondo raccontava. Per un periodo breve, forse troppo, quel mondo lì, fatto di cultura, arte, letteratura e anche follia, si è commisto all'odore di questa terra, di questa città, spesso così saccente, ma non tanto da restarci dentro, da lasciare nell'aria un odore di buono. Pochi si sono accorti che da qui è passata una stella e se invece avessero avuto l'umiltà di ascoltare e non di parlare, di accostarsi con curiosità alla novità e non di abborrirla con sdegno, forse oggi avrebbero potuto dire, però anch'io c'ero. È stata una nissena adottiva, ha frequentato il nostro teatro, ha presentato in prima alcuni suoi spettacoli, è stata coccolata da questa città e lei ha ricambiato rendendola un po' più ricca.